la trasmissione stai trasmettendo dal vivo cari amiche ed amici qui il vostro santenchan che trasmette per la prima volta come dice il titolo come dice faccio questa live a sorpresa perché ho il tempo magari non la seguire a nessuno ma è la prima live che faccio e vi dico abbonatevi 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 dovevo partire così sin dall'inizio abbonatevi perché avete l'opportunità di farlo grazie a tutte e tutti voi che mi seguite voi vi potrete abbonare al mio canale santenchan per aiutarmi ad andare avanti quindi abbonatevi al mio canale e poi mi raccomando da ora in avanti ci sono le super chat che mi potrete anche appoggiare con le super chat e gli stickers perché mi aiuterete moltissimo e quindi abbonatevi abbonatevi al mio canale faccio questa live proprio per dirvelo e adesso metto anzi dovrei duplicare questa pagina duplichiamola perché io metto nella community nel mio canale di youtube questo video prima lo devo mettere in una lista di riproduzione aciderbola che casino però è così care amiche e cari amici il successo non si costruisce dall'oggi al domani io il 20 febbraio 2018 ho perso le monetizzazioni per le 4 mila ore ma adesso le ho recuperate e non solo e voi vi potete abbonare al mio canale capito vi potete abbonare al mio canale e quindi vediamo un po selezioniamo la playlist ecco fatto selezionata abbonatevi mi raccomando mettiamo altro mettiamo contenuti voglio mettere vediamo un po che casino sto facendo comunque vi ringrazio tutti tutti e tutti ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua che casino di live tutto fatto in diretta che non riesco a mettere la descrizione ecco facciamo così cancelliamo qualcosa ecco se si doveva cancellare ecco qua 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 Ecco, rifacciamo. Scusate, torno a una frase critica. Comunque vi ringrazio a tutti della vostra comprensione. Questa è la mia prima live di un'altra parte. Ho messo troppi spazi nella descrizione. Ecco qua. E adesso i dettagli che ci occorrono. Vediamo un po', dobbiamo impostare i tag. Ecco fatto. Poi data di registrazione oggi, località Roma. No, non voglio che solo gli abbonati al canale invino i messaggi, perché altrimenti... Ecco fatto. Allora, ciao Giorgio Scanu, come va? Lasciate il like, centena, abbonatevi. Ho condiviso, ho condiviso con i soci di Flaco e su Facebook. Ho capito, io ci provo. Grazie mille. Ciao Garibaldi. Ciao Simone, ti aggiungo come moderatore della chat. Ciao Simone Garibaldi, ciao Giorgio Scanu, Simone Garibaldi, dunque vediamo un po'. Qua playlist, scusate tutto sto casino. Vediamo un po'. Questa è proprio la mia sperimentale, la mia... Se potete mandarmi... Adesso c'ho uno spettatore, mi sembra. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ecco qua. Io ho lanciato la mia campagna abbonamenti, quindi questo prendetelo come un video di prova, però ho voluto mettere in metadata così subito. Purtroppo c'ho la connessione lenta, ecco adesso sto divulgando nella mia sezione come uniti, così la gente sa che gli arriva la notifica, anche se sto trasmettendo ormai da... Sono raggiunto da due spettatori, la cosa... Poi ho ricevuto la notifica, una notifica... Vabbè, lasciamo stare le notificazioni. C'ho due like e un dislike. Sono già famoso, c'ho gli dislike. Allora, cari amici ed amici, vi dico che se volete mandarmi delle super chat, delle... Poi io devo vedere perché devo studiare ancora, io non so che cosa sia mettere a fuoco con intelligenza o progressivo, perché mia madre mi ha comprato due settimane fa, un mese fa, non so. questa macchina fotografica, che è una Sony Cybertech DSC W830 con una risoluzione forse non si vede, di 20,1 megapixel guardate se si mette a fuoco e con 8 hits di ingrandimento, c'era anche da 20 hits ma mi sembrava troppo perché ho avuto esperienza con una vecchia filmatrice del 2010 che in pratica non mettevo mai a fuoco così tanto e qua dice, entrando nel menu zoom digitale intelligente oppure preciso quale possa essere la differenza poi ho messo una targhetta di memoria micro sd di 2 gigabyte perché non ho per comprarla allora faccio video o di 12 o di 24 minuti ma in VGA li posso fare di 48 minuti comunque non vale la pena avere un fior di camera così per fare in VGA e anche le foto le posso fare in distinta risoluzione certo se le faccio in 20,1 megapixel ne faccio 120 di foto se invece le faccio in 2 megapixel ne posso fare 3000 a tutti lo mando poi sta loro tutti quelli che seguono pure me grazie Giorgio Scano allora dicevo devo studiare qual è la messa a fuoco intelligente o automatica grazie mille Giorgio Scano poi dovresti seguire il mio consiglio consiglio Giorgio Scano dovresti pubblicare video pubblici e non ti preoccupare quelli che falsificano i profili anche con me ci hanno provato però non ti devono demoralizzare e poi devi fare video più larghi di 5 secondi capito altrimenti YouTube non ci può mettere la pubblicità ma non li consiglia che sono video di 2 secondi tu hai potenziale per fare dei video anche di 5 minuti farli non necessariamente di 5 ore ok qualcosa di particolare anche e sì fai tutto quello che vuoi ma non li fare di 2 minuti cioè di 2 minuti di 3 secondi il tempo di aprirli che già si chiudono e così non sta bene non si capisce niente in modo particolare volendo invece devi devi fare dei video che si possa che si possano capire poi io ho iniziato a e mi raccomando abbonatevi al mio canale ho iniziato a mettere i sottotitoli in in tutti gli idiomi e io ho visto peccato che non vi posso fare vedere lo schermo che mi stanno seguendo non solo dall'Italia il 38,2% gli ultimi 28 giorni ma anche dal Canada 7,8 Stati Uniti 2,1 Spagna 3,3 ma le lingue negli ultimi 28 giorni allora mi hanno seguito in inglese 95 persone in italiano 95 si vede che ci sono degli ipoacustici che mi seguono in inglese nel Regno Unito 14 persone in francese 13 in indonesiano 9 persone hanno generato una media di 2,11 secondi 2 minuti in vietnamita 8 persone con un promedio di 3 minuti in russo 2 minuti e 52 6 persone 5 persone in arabo che mi hanno seguito per 35 secondi inglese di Canada inglese Stati Uniti portoghese turco etiope inglese dell'India spagnolo spagnolo Stati Uniti croato ebraico giapponese coreano olandese slovacco tailandese africaner arzerbaigiano cieco spagnolo america latina finlandese norvegese rumeno cinese e tedesco questo negli ultimi 28 giorni negli ultimi 7 giorni mettendo i sottotitoli in alcuni video mi hanno seguito senza nessun sottotitolo 875 persone ma in inglese 49 italiano 35 ci saranno molti sordi che mi seguono con tutto rispetto parlando in inglese del Regno Unito 9 persone francese 8 persone indonesiano 8 persone inglese Canada 4 persone russo 4 arabo 3 portoghese non vi sto dicendo il tempo di visualizzazione ma vietnamita 3 persone 2 minuti 5 di promedio croato 2 persone coreano 2 persone turco 2 persone etiope 1 persona serbaigiano 1 persona inglese dell'India 1 persona inglese Stati Uniti 1 persona olandese 1 persona norvegese 1 persona o visualizzazione slovacco 1 persona thailandese 1 persona cinese 1 persona che significa questo? che se voi mettete i sottotitoli in molti idiomi dei vostri video vi seguiranno un sacco di persone ciao Pippu come stai? mi raccomando abbonatevi se potete mi sopporterete molto io sono 8 anni che sto su YouTube però ormai il mio materiale si deteriora incluso il computer se no dovrò abbandonare perché non ho risorse allora se potete pagatevi una super chat gli stickers anzi pagatemi e se no regalatevi un abbonamento io ho seguito i suggerimenti di YouTube e quindi un abbonamento mensile costa meno di 4 euro insomma è come un caffè al giorno come dice Flaco e quindi mi supporterete perché perlomeno c'è un piccolo ritorno economico poi vi ringrazio essere in 4 o 5 adesso a seguirmi e quindi che dire sono molto felice e molto contento di avere così persone così tante persone in live anche se da un momento o un altro dovrò tagliare la live perché è pomeriggio ho delle cose da fare e comunque vediamo un po' i commenti ultimamente mi ha commentato un mio amico ha commentato i post che ho messo nella community YouTube mi dice che più aumenta l'abbonamento più aumentano i privilegi degli abbonati io non so come funzionino gli abbonamenti e quali privilegi debba concedere come si fa quindi perdonatemi se voi vi abbonate con il massimo degli abbonamenti io dovrò studiare cosa fare allora io sto bene Pippu sono contento che anche tu stai bene Giorgio Scano non è che bisogna per forza abbonarsi è già tanto che mi date un like e mi commentate i miei video e partecipate della diretta e poi è già tanto che condividete i miei video quindi io se continuate così sono contento e se continuate a vedere i miei video vecchi ma se mi aiutate mi fate un favore naturalmente però non voglio che vi sentiate obbligati a abbonarvi al mio canale lo ripeto che comunque il traduttore che poi tradurrò a quanti più idiomi possibile questo video tradurrà anche abbonati abbonamenti abbonati abbonati in questo mondo magari ci sarà qualcuno che dall'estero si abbonate al mio canale perché con le traduzioni dei miei video mi stanno seguendo sempre più persone dal Vietnam dalla Thailandia dalle Filippine dall'Indonesia dall'Indocina da Jakarta da Malibu è incredibile e poi ho dovuto iniziare la diretta con 20 minuti di ritardo perché non mi partiva il mio vecchio computer che si sta sempre attualizzando anche se Windows 7 non conosce attualizzazioni mi ossessiona mi tormenta dicendo che ci sono attualizzazioni in corso e poi se io tratto di annullare con l'amministrazione di risorse e l'attualizzatore di Windows 7 si blocca se congela il computer che lo devo riavviare quindi non so qualche abbonamento mi consentirà di cambiare computer almeno non ho ricevuto messaggi da eventuali sponsors perché ho messo le mail commerciale ma non mi ha scritto nessuno per il momento e comunque non so se ho tanti abbonati come Costantino Ruh o di più ma per il momento si vede che il mio canale non è considerato interessante a chi cerca dei testimonials e poi io non mi sono iscritto a nessun sitio per probabili testimonials come io so che tipo Social Blade ci sono dei siti che uno si registra e poi chi cerca un partner commerciale lo raggiunge io spero che l'audio si senta bene perché c'è un microfono analogico una volta ho messo lo spinotto nell'entrata della cuffia e non si è registrato per mezz'ora ho dovuto tagliare mezz'ora di video se seguito in tutto il mondo sì forse questo è un bene per la divulgazione del mio canale ed è un male perché appunto troppo dispersivo poi gli sponsor non sanno che pubblicità mettere o youtube quindi mi raccomando abbonatevi al mio canale o comunque chiamate delle persone che si possano abbonare al mio canale e dai devo guidare che è arrivata mia moglie buon proseguimento buon proseguimento Pippu mi raccomando stai attento mascherina alcol gel distanziamento sociale perché ancora non siamo usciti da questa fase critica e penso spero di no ma penso che appena usciamo da questa fase critica ne entriamo in un'altra e a me mi accompagna da tutta la vita la lettura quindi se state in casa leggete molto guardate io che fin da giovane sono sempre stato molto in casa guardate i libri che ho letto di là c'è un altro mobile pieno di libri quindi per me questa cosa non è una grande novità non mi piace dover stare chiuso in casa ma altrimenti che cambia per me che cambia capito quasi nulla guardate di qua di là tutta la stanza piena e molti libri li ho dovuto lasciare li ho regalati in biblioteche e fondazioni culturali e quindi mi raccomando non giocate col fuoco distanziamento sociale nei mezzi aprite una finestrella se viene qualcuno in macchina aprite una finestrella non giocate col fuoco capito? e poi io risponderò a dei commenti ma mi raccomando andate a vedere anche i video e le foto che io metto nei miei post della community e poi vorrei fare delle live e delle pubblicazioni nella community per gli iscritti iscrivetevi al mio canale abbonatevi al mio canale per gli abbonati voglio fare delle live delle premiere e forse dovrò fare una premiere solo per abbonati in modo che si incentivino le persone a abbonarsi già ho tolto dei video da qualsiasi piattaforma e li ho messi nelle piattaforme monetizzate perché sono i video più visti e poi vorrei fare dei post in community tanto video come foto solo per gli abbonati e delle live per tutti ma le chat solo per abbonati in questo modo incentiverò qualcuno ad abbonarsi certo c'è ancora pochi iscritti perché se un 10% dei miei iscritti mi segue nelle live non sempre un 10% degli iscritti si abbonerà al mio canale quindi su 2100 persone no forse meno del 10% forse un 1% forse 21 persone si abboneranno però se si abbonano almeno con 5 euro al mese pago tutte le mie spese e poi che dire visto che ci sarebbero tanti argomenti dei quali vorrei parlare però mi seguono sempre meno persone è iniziato con un botto questa live e adesso invece termina che che non è tanto un botto e vediamo ciò quanti iscritti nuovi ciò io vedo sempre iscritti appena c'è un iscritto nuovo mi iscrivo anch'io se io potessi mi abbonerei ma sono disoccupato per quello conto sugli abbonamenti capito? in ultimi 90 giorni non ho avuto nessun iscritto vediamo intera durata perché ogni tanto io vado a vedere 3-4 mesi fa o 3-4 anni fa e c'è un iscritto nuovo allora ricambio youtube non ti informa subito delle attualizzazioni questo è il neo di youtube capito? quindi una volta ho visto fino agli inizi del mio canale c'erano molti abbonati che io non avevo ricambiato purtroppo contenuti vediamo contenuti perché non sono più video sono contenuti dal vivo ecco questa live ha fatto 12 visualizzazioni almeno quello che riporta qua e da quanto tempo sto? da 26 minuti facciamo mezz'ora e poi taglio adesso ho tre spettatori in linea siete molto gentili a seguirmi a mettere like io non vorrei essere così dispersivo poi ho molta paura non per me ma per mia madre le persone che conosco che questa che questa covid-19 possa avere delle varianti e trasformarsi in qualcos'altro addirittura quindi stiamo facendo un vaccino trattando di inseguire buona buon tardi amica figlia dottodo poderoso teise moderadora della chat amica come potete vedere ho un'amica che è brasiliana perché ho messo i sottotitoli in brasiliano quindi un suggerimento che faccio a tutte e tutti voi è di mettere i sottotitoli in quanti più idiomi possibili capito? un suggerimento che vi faccio è di mettere i sottotitoli in tutti gli idiomi e così vi seguono da tutte le parti del mondo aumentate gli iscritti anche se figlia dottodo poderoso mi seguo ormai da molti anni forse cinque piacere di partecipare della live piacere mio canale non so come si dice in portoghese sono iscritta bene me alegra moltissimo querida amica bene mi querida amica dell'alma se vuoi poter subscribe to my channel se vuoi poter si iscriviti al mio canale al lato del botone inscribirse linda rio de janeiro io ho faccio di niente in un video ti vorrei vedere le foto al lato del botone inscribirsi hai tambien abonarsi una subscrizione mensual me aiutare molto perché sono desempeato e se potete mandare un super chat o un sticker bueno los stickers sono per abonare e e si hice già 30 minuti 30 minuti che vengo tenendo 4 spettatori 4 spettatori che mi seguono fedelmente vediamo un po' qua che mi dice il contenuto quante visualizzazioni ho fatto con questo video 16 visualizzazioni di solito arrivo a fare anche 46 visualizzazioni in un'ora circa in un'ora e mezza e poi aumentano quindi non so quanto tempo posso registrare adesso un momento che ho qualcosa da fare che anche se il Grazie a tutti. Eccomi qua. Hello, Stelo. How are you? My brother. I hope you are well. You are now chat moderator. I hope you are well. Please stay home, stay safe. You are chat moderator. There is friend. Stelo H. Vedete? Un'altra persona che si somma. Vabbè che a lui lo conosco da molti anni, ma voi potrete avere un 20-30% di abbonati in più o di iscritti se solo traduceste i video più importanti, magari gli ultimi, in tutti gli idiomi. Io alcuni video li ho sottotitolati in 140 idiomi, che sono riuscito a farlo in più di un'ora, però dopo mesi i risultati si vedono, perché arrivi a avere due o tre visualizzazioni per idioma intere e ti danno ore di visualizzazioni ed è da anche iscritti. If you can, please subscribe to my channel, Stelo H. Vediamo. So, I will you let us understand what is the meaning for subscribe. If you want to know how to subscribe to my channel, se volete sapere come suscriverti al mio canale, go here, go to this link, go to this YouTube link, and you will subscribe to my channel. Poi vi metterò in descrizione, anzi lo faccio adesso, come iscriverti al canale. Come iscriverti al canale? Ecco no, c'è già nella descrizione. C'è già nella descrizione, c'è già nella descrizione, voi andate nella descrizione e sapete come iscrivervi al canale. Quello che devo fare è cambiare, cambiare niente. C'è già tutto lì in descrizione, è già tutto lì in descrizione. E quindi mi raccomando, seguite questo link che io avrei dovuto mettere all'inizio della chat, perché adesso so che molte persone non guardano al minuto 36, però lo condividerò nelle reti sociali. C'è un link che proprio tu fai link lì e ti puoi abbonare al mio canale. Questo virus mi spaventa, dicevo, perché ci sono varianti sempre più pericolose. Speriamo di fare il vaccino a tempo, ma non si sa poi se questo vaccino servirà a qualcosa o magari non servirà a nulla. Io spero che servirà a qualcosa. Poi per il momento c'è solo uno spettatore, vorrei vedere quante visualizzazioni ho fatto. 16, e oggi è una partecipazione un po' scarsina, mi sembra. Sono tentato di tagliare questa live, perché già che mi seguono... Già che mi seguono, è successo un casino. Qua vediamo un po' Vediamo un po' monetizzazione. La voglio monetizzare questa? No, come è disattivata? È attivata, è attivata, la attiviamo, è chiaro. E pensa, partiva, partiva la live disattivata, la monetizzazione, ma guarda un po' che mi combina YouTube, che sa che... E poi, dettagli... E partiva disattivata la monetizzazione, ha capito? Meno male che me ne sono accorto il tempo. Meno male che poi non è che mi pagheranno subito. Però c'è uno spettatore in linea, due spettatori. A chi diamo il benvenuto? Forse qualcuno che si riconnette. Le immagini sono prove inconfutabili, sono più attendibili, così ho più visibilità, se no mi credono ancora un fake. Ora non posso troppo, casino. Sai San, la prossima live, entro, ora so usare Stram Yard. Non ti preoccupare, non ti preoccupare carissimo amico, però mi raccomando Giorgio Scano, se vuoi abbonarti al mio canale, devi fare clic qua. Adesso mi sono perso il link. Comunque ti apparirà una finestrella con tutte le opzioni. Ecco qua, visto Giorgio Scano, ecco qua. Caro amico Giorgio Scano, vai a questo link tranquillo che me l'ha dato YouTube, non è un link taroccato. Con questo link tu ti puoi abbonare al mio canale. Capito? Adesso vi devo lasciare 40 minuti, 40 minuti, poi metterò come trailer per gli abbonamenti questo video. Questo video, capito questo video? Adesso si oscilla fra un partecipante e zero partecipanti. 40 minuti, mi sono stancato. Sono le 17.34, me ne vado a leggere, a leggere e a recitare mantra bruciando incenso. Allora vi saluto. Mi spiace che adesso voi siete in due. E io potrei continuare avanti altri 10-15 minuti, ma visto che siamo soltanto sperimentando 8-20 visualizzazioni, visto che poi ne avrò molte di più mettendo i sottotitoli, ma visto che nessuno di voi mi dice no rimani parlaci di questo, parlaci dell'altro, non mi resta che salutarvi dicendo a tutte e tutti voi, abbonatevi, il link lo metterò anche come commento messo in risalto, dell'abbonamento al mio canale, mi aiuterete moltissimo perché io sono disoccupato. La prossima volta partecipate con le super chat e i super stickers da abbonati, ci saranno degli stickers che sono una bontà, ma sono una sorpresa riservata soltanto agli abbonati, perché altri non li potranno vedere. E in più, a seconda del vostro abbonamento, avrete un simbolo di riconoscimento di colore diverso. Comunque, San, sto condividendo pure su Messenger, grazie carissimo amico. Qua ti ricordo un'altra volta di fare clic qua, almeno per dare un'occhiata a quanto costano gli abbonamenti. Poi non sei obbligato ad abbonarti naturalmente, nessuno di voi lo è. Comunque, adesso siete in tre. Non so chi di voi mi segue. Forse YouTube, che ogni tanto oscilla nel numero di persone che mi seguono, che non mi seguono, accedono così alla live casualmente e se ne vanno subito. Comunque non è aumentato il numero di visualizzazioni. Deve essere un problema di YouTube a comunicarmi quanti mi seguono, perché ho sempre venti visualizzazioni. Ho almeno venti persone che due o tre alla volta entrano e escono. Comunque, guardate, siccome io ho finito gli argomenti, non voglio approfittarmi del vostro tempo. Faccio entrare Gabbo se vuoi. Chi è Gabbo? Ok, io adesso guardate, non voglio continuare a parlare a vanvera, poi quanti di voi mi hanno seguito fino adesso potranno rivedere questa live dall'inizio. Quanti non l'hanno visto dall'inizio, logicamente, quanti non l'hanno visto per niente, voglio dire, già so all'inizio ad essere stanco. La vedranno dall'inizio, non so, voglio fare qualcosa di costruttivo, quindi non aumentano le visualizzazioni della live. Siete sempre gli stessi che magari per problemi di connessione mia o vostra entrano ed escono, ma ho sempre venti visualizzazioni, quindi posso continuare altri venti minuti e stiamo sempre tra dei noi. Mi dà molto piacere, ma era per annunciarvi questa live che vi potete abbonare e mi potete mandare i super chat e gli stickers che sono molto personalizzati e che vi piacerà utilizzarli se vi abbonate. Se conoscete qualcuno che si possa abbonare a pagamento al mio canale, convocatelo, perché mi aiuterà moltissimo a avere un abbonamento al mese per pagare tutte le mie spese, almeno rinnovare il computer del 2010, la filmatrice del 2010 che non mi funziona più, se non la connetto al televisore e il cellulare del 2015, ma un modello del 2014. Insomma, io a volte mi filmo con questo cellulare Nokia Asha 302 che è stato comprato alla fine del 2013, ma è un modello del 2011, 3,2 megapixel di camera, davanti non ne ha, ne ha solo dietro, 6,40 x 4,80, lo devo editare, ci metto un buchio di tempo, l'edizione dura il doppio del tempo di quanto è largo il video, lo posso editare in 9,60 x 7,20, perché non si sgrani, e come dire, c'è un parco tecnologico molto vecchio da rinnovare, e vi ringrazio di tutti gli sforzi che fate per seguirmi. Vi ricordo ancora una volta, abbonatevi, abbonatevi, abbonatevi. Abatto, abbonatevi, abbonatevi, abbonatevi. Io ne vinete questo video, abbonato, abbonatevi, abbonatevi. Ma adesso mi raccomando, farò dei video, magari li pubblicherò in premier, dove lo stesso voi potrete partecipare con una super chat e con l'abbonamento, ma ecco ecco qua hai capito giorgio scanu io non voglio farti pressione se non ti puoi abbonare tu fai abbonare qualcun altro magari che mi voglia aiutare diffondi questo link di abbonamento fra i tuoi amici più che link di questa live e magari qualcuno si abbona fra le migliaia di persone alle quali arriva il link io ho trattato di vari argomenti in tutti questi anni nei miei video e spero di poterlo continuare a fare nella forma in cui ho fatto in modo eclettico senza dedicare del tempo ad un solo argomento ma finché dovremmo andare in giro con questa roba qua con questa mascherina non è che potrò fare molti video all'aperto come ho fatto fino adesso comunque se vorreste guardare dei miei video fatti fuori all'aperto guardate cercate nel mio canale spesa e troverete molti video dai quali parlo all'aperto perché molti mi dicevano negli anni passati ma perché ti filmi sempre in casa sempre nella tua biblioteca perché non ti filmi da fuori e io ho fatto molti video filmandomi facendo la spesa addirittura facendo dei consigli e poi cercate anche colazione pranzo cena merenda nel mio canale e prima di sapere che si stessero in mut bang io facevo dei video consiglia facendomi filmandomi mangiando quindi ho fatto dei mut bang senza sapere che cosa fossero in mut bang quando ancora non si usavano e voglio arrivare fino ai 50 minuti vediamo se ci riesco comunque mi raccomando guardate nel mio canale cercate spesa uscito di casa pranzo cena colazione merenda perché troverete molti video interessanti soprattutto i miei video più interessanti sono stati fatti dal 2013 al 2016 ve lo dico io che vi potrei dire guardate gli ultimi video o guardate quelli più visti quindi evidentemente sono i video più belli perché ve li raccomando io poi comunque se potrete aiutarmi guardate tutti i miei video quanti miei più video vi è possibile guardare naturalmente io ricambio io ultimamente come ho fatto negli ultimi nell'ultimo anno e mezzo ormai nell'ultimo anno e mezzo io ho passato tutti i giorni almeno otto ore guardando e commentando dando like per completo guardando per completo ai video delle community che frequentiamo però adesso non lo posso più fare perché sto sottotitolando tutti i miei video io rispondo e guardo i video di chi mi commenta i miei video ormai raramente vado a guardare tutte le notifiche che ricevo perché sono centinaia al giorno se non migliaia di tutti i canali che ricevono notificazioni e non ho tempo per per stare dando like dalla mattina alla sera sin dalle sette del mattino accendevo il cellulare iniziava a guardare video a commentarli a dargli like e poi ricevevo soltanto 20 30 commenti al giorno adesso non lo faccio più adesso rispondo solo a chi mi guarda i video raramente guardo qualche altro video che mi arriva la comunicazione ma chi guarda i miei video di lo commento il commentario e gli guardo i video e gli commento non ho tempo di guardare 200 canali al giorno come ho fatto durante tutto il 2020 perché sto sottotitolando i miei video poi appena sarò libero da questo sforzo emane di sottotitolare 1200 video allora ritornerò a guardare i video di tutti voi allora vi saluto non so chi c'è in linea adesso sono due persone mi avete dato 4 like sono molto contento che mi avete seguito fin qui se potete guardate tutti i miei video io non ho nessuno stream yard nessuno bs nel computer e niente adesso qua vi devo lasciare vediamo di riuscire a mettervi un messaggio qua ma è un sogno innanzitutto vi ridò di nuovo il link vi dovesse servire per iscrivervi al mio canale e poi vi ricordo questa cosa qua amici se sul mio canale non c'è nulla di nuovo guardate come guardate commentate tutti i miei video vecchi che io rispondo perché mi sono scorciato che sempre io devo guardare i video di tutti e non tutti mi rispondono oppure io guardo il video di un canale che ne fa dieci in un giorno e mi commenta solo un video capito e poi quest'altra cosa qua potete riutilizzare i miei video perché li metto in common creative attribution vediamo lo scrivo pure in inglese allora giorgio scanu e chi altro sta in linea grazie ma la live termina qua 50 minuti 52 minuti e 35 secondi abbonatevi al mio canale così potrete mandare le super chat i super stickers io vi menzionerò sempre se vi abbonate al mio canale io vi sponsorizzerò il vostro più alto è l'abbonamento più alti sono i simboli che compariranno al vostro nome vicino al vostro nome il colore cambia anche delle vostre cioè se vi abbonate mi sembra che voi in pratica avreste sempre una super chat la vostra chat sarà evidenziata di un colore a seconda di quanto pagate in abbonamento e poi potrete mandare degli super sticker mi sembra se vi abbonate senza pagare non so ci saranno dei vantaggi io non conosco questi vantaggi perdonatemi se io non riuscirò a gestire bene gli abbonamenti perché sarà tutto nuovo per me comunque vi lascio non c'è null'altro da dirvi ho fatto 53 minuti il numero di e visualizzazioni è passato a 21 adesso quindi ho dovuto fare 11 minuti per vedere aumentare di 22 visualizzazioni da 20 a 22 è la mia live quindi non mi seguite molti e vi devo lasciare sono molto contento di essere arrivato a fare questa live di 24 minuti 54 minuti ma adesso sono le tardi 17 47 no io per le 18 per 18 voglio essere libero adesso devo mettere tutti aspettare che youtube gli idea il formato alla live mettere in metà data condividerla per poi spegnere il computer poi c'è la live di flaco oggi se la farà perché ieri non l'ha fatta se farà la live flaco e allora devo entrare nelle reti sociali adesso fare tutto sto ambaradan e diffondere la live addirittura nei gruppi di di telegram e di instagram che ci sono c'è un bot di youtube per diffondere i video ma quello che rende di più è sottotitolare ve lo ripeto ancora una volta sottotitolare i video in quanti più idiomi possibile e guardate dei tutorial in youtube per sapere come sottotitolare ciao ciao giorgio scanu mi raccomando e poi youtube me lo dice se ciò degli abbonamenti o no per il momento 0 0 0 centesimi di dollaro o di euro mi dice se ci sono delle entrate da super stickers del super chat o da abbonamenti per il momento negli ultimi sei mesi 0 allora ho fatto 56 minuti arrivedoci e mi raccomando abbonatevi state salvi che ancora non è finito nulla e chissà se ne vedremo delle belle in futuro spero di no ciao ciao mancherebbero quattro minuti per fare un'ora che dite un'ora la faccio arrivo a un'ora un'oranzo dati darei la 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 mi sembra con questo coronavirus stiamo giocando col fuoco perché chiudi apri chiudi apri la gente va da tutte le parti la gente non sa che fare la gente è impazzita bisogna risguardarsi non è finito nulla non è che solo perché ti fanno la punturina che poi entra in circolazione dopo un mese l'antigeno già puoi andare dove la gente scatarra sputa scoreggia sternutisce lancia le flemme veramente la gente vive come se non ci fosse un domani fanno feste clandestine fanno qualsiasi pazia e invece no bisognerebbe bisognerebbe avere intelligenza capito non bisogna fare pazzie bisogna bisogna comportarsi e che dire bisogna essere responsabili soprattutto nei confronti delle persone maggiori perché uno può dire vabbè a me che mi frega tutti dicono così se mi succede qualcosa va bene non mi importa ma se succede qualcosa qualcuno dei tuoi poi arrivano dei nuovi cetti virali che colpiscono le persone giovani i cinquantenni sessantenni quarantenni trentenni addirittura stanno morendo degli adolescenti in verità già da tempo morivano dei trentenni dei quarantenni verso cosa vogliamo andare incontro verso una catastrofe globale ognuno di voi che si mette a salvo è una persona meno contagiata anzi forse 10 20 30 persone meno contagiate e in questo modo quelle 30 persone non potranno trasmettere altri 10 20 30 perché sennò la diffusione del virus e non è aritmetica esponenziale da una si passa come la tavola fibonacci a 2 a 4 a 6 a 8 poi a 16 a 32 si arriva a 4000 nel giro di pochi pochi giorni nel giro di poche settimane si arriva a diecimila centomila infettati nuovi o magari che ricadono perché uno si vaccina ma ma non al tempo non al tempo di sanare e quindi mi raccomando non facciamo corbellerie risparmiamoci inutili sofferenze e responsabilizziamoci stiamo a casa stiamo bene e soprattutto stiamo a casa guardando i video dello youtuber italiano santenchan abbonandoci al suo canale per aiutarlo ad andare avanti pagando le super chat e gli super stickers che comunque vengono in omaggio più paghiamo l'abbonamento tanto poi traduco in inglese in altri idiomi ciao ciao adesso ho fatto un'ora e 28 secondi 30 secondi vi lascio ciao lascio gli ultimi secondi perché metterò delle schede a fine video e quindi qua potrete vedere se avete visto più il video fino a un'ora le schede a fine riproduzione ma durante tutta la riproduzione del video vedrete dei video consigliati ve lo dico adesso che il video è finito perché sono un genio e vi dico anche di iscrivervi a fine video perché sono un genio ciao arrivederci vediamo termina la live